braun barbarossa reno jackson vi siete stancati di impagare il mano ve lo regaliamo noi uno al turno hairston venite nella vostra bottega il momento più piccolo il torneo ovviamente oscurato da questo solo chi ha adblock si salva da quella strazione qualcuno si chiede il commercio a break ogni tanto ci sta ragazzi stiamo andando a cannone a sto giro io ve lo dico stavo andando bene prima come banda è impazzito un momento ok allora vuole partire macina due lui giustamente non capisco ora lo scopriremo perché lui ha tutto quanto già in mano che può scombare velocemente c'ha tre carte che gliela fanno caricare sicché ora farà una probabilmente non farà manomorfosi spero e al prossimo lui giocherà il command e lui li scompa in faccia vabbè ok fa manomorfosi andiamo e c'ha anche c'ha anche remand c'ha tutto wow remand su manomorfosi incredibile no remand su dromoka scusa perché non c'era un altro modo per ripagarlo no scusa quel gerarchino perché è tappato non capisco è tappato manora forse e allora perché ha tappato perché ha tappato tre che ha fatto una voice ma neanche voice ha fatto cosa ha giocato scusami infatti il turno prima infatti allora ha giocato vabbè questo è un remando è un mistero tra l'altro il remando ne ha tolti due ma qualcuno l'ha tenuto no per la banda non possiamo fare niente adesso eh ma tra l'altro veramente abbiamo provato mille configurazioni diverse doppio DSL vabbè niente abbiamo sta piromante attiva attiva comunque voglio vedere voglio vedere cosa succede per la top deck in realtà per modo di dire la top deck perché ha una noxus però ora potrebbe mettere la noxus con noxus l'altra fa manomorfosi e con la coppia ci mette anche la la sua noxus perché va abbastanza in combo lo direi vediamo vediamo sono curioso infatti è quello che sto facendo vediamo cosa mette in cima ce n'è un'altra tanto di manomorfosi manomorfosi e e se non vision io penso che se uno volesse veramente imparare a giocare a un storm dovrebbe guardarsi queste partite quindi puoi pescare una e fare morfosi prima di pescare l'altra perché metti ti impila la coppia cioè tu puoi infilare una magia in mezzo a un'altra magia ora sta alla ricerca disperata del toxus che mi sembra di aver visto vagamente ora no è uno è lì di noxus perché prima non si è potuto mettere ne è uno al cimiter ma stanno con 56k intanto pescherebbe più o meno intanto pescherebbe secondo me guarda io sinceramente però li capisco i nostri amici da casa perché questa è una partita davvero molto bella forse forse è la più bella tra le più belle dai perché i due massi interagiscono fino a un certo punto ci sono un po' di scelte e tutto eppure vederla così con queste interruzioni un po' da fastidio dai eh beh certo ora pesca 3 pesca 6 si si 3 più 3 e quindi ora ci avrà la noxus molto probabilmente vabbè ci avranno il foto ecco la secondo me ha appena fatto appena chiuso dai pesca ancora 6 ragazzi clamoroso questo nozzo ma è veramente forte eh no ti fa innamorare ti stai innamorando? eh ora pesca la chiusura a bolt beh lasciamo che i colori sono fantastici cioè io adoro questi colori vabbè blu e rosso li adoro però sono di parte sono i colori di Hulk combo oltre al nero sono i colori di twin che è il mio mazzo e vabbè affiniti non fa testo sono tutte colorless se vuoi un consiglio e lo dico così perché lo sentono anche gli amici bisogna sempre aspettare almeno 2-3 mesi dopo che ci fa risultato uno con la Storm perché poi le persone si settano è quel tipico mazzo che ha lo stesso Wagner dopo risultati della MKM tieni conto che però lui ha fatto il risultato dopo che ad un GP Ray Duke e William Jensen hanno portato Storm lo stesso alista? eh anche John Fink ha giocato Storm cioè un sacco di persone sì cioè le persone Ray Duke e John Fink ragazzi l'italiano mi fa dai dimmi se hai vinto o non c'ho sì se non mi hai vinto no no sì perché lo conosce anche lui lo conosce beh 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 pazzesco ti ho detto aspettava due modi per caricare la scienza ora in realtà aveva Remand quindi non si capiva niente della sedata quel flash non era un fulmine era una foto possiamo dirlo possiamo dirlo comunque il Remand ragazzi ne ha tolti penso due o tre prima ho visto ti chiedono chi c'era in top 8 allora vi rileggiamo la top due affinity allora avevamo Canfarotta che era il primo posto contro Kufal Benjamin Junk contro Affinity e ha vinto Canfarotta che abbiamo poi visto in semifinale contro Pascal contro Wagner che aveva precedentemente battuto ai quarti Angelo Cadei il nostro amico con Twin versione blu rossa poi avevamo Buonaventura con Affinity che ha battuto Maiolini Matteo con Junk match up rispettato che ha giocato in semifinale contro Gandini Davide che stiamo vedendo qui in finale che gioca Big Zoo che aveva battuto precedentemente ai quarti Lorenzo Noto che giocava UBR contro versione con i Geist soddisfacente poi Ciro un'avventura ha perso contro Gandini beh sì certo lo stiamo vedendo era deducibile in effetti ma ora guarda il fatto che Zou parte parte con Gartel aveva anche mal ligato sono un sacco di foto da quella parte ragazzi come se fosse la finale e immaginate che davvero vince a me piacerebbe davvero vedere la sfida Wagner contro Garfield però non so se sarà stasera stanotte perché conoscendo Garfield sta già dormendo dalle auto stasera concordo però guarda che comunque ora che Zou parte forse è avvantaggiato molto avvantaggiato molto avvantaggiato perché me comincia subito a mettere race vedrai che partirà terra gerarca terra ciocca no ma G3 ha detto non lo faccio più questo errore ma potrebbe anche aprire con una mano tipo terra nakat terra casali casali terra ciocca può far mille partenze forti l'importante è che ha le rande se ha tre rande quattro magie Zou rimanda eccolo lì ancora rimanda timeli doppia terra ma malega esatto in quei momenti l'ave si sentiva ok prima se sentito la tua voce ma Wagner sta montando un piano vediamo adesso forse ha capito male stiamo montando la sorella di forse vabbè ha capito male ma dopo Angelo Radea che soccorre il mignote da Pisa per oggi Angelo ha fatto birra in magic appena non l'ha più bevuto ha perso è sfigato infinito molto male ma io ho sempre detto che l'acqua fa bene vediamo la mano vedo una carta a bordo bianco vedo una carta a bordo bianco nella mano di Gandini ed è proprio quella l'unica che può essere grandissimo grandissimo esatto questo è un consiglio quando giocate carte come Choke che fanno soffrire i giocatori dovete giocarle a bordo bianco c'è pure il drop a 1 che dà mana no qua 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 guarda guarda fa il finto triste in realtà c'è già tutte le lade mi sta dando la speranza spero perché non sarebbe monoterra la sacra ed è in cima e qui impazziamo però ha fatto scala infatti chiaro ovviamente aveva già con un sacco di c***o